Ecco gli allievi fascia B di Bellini che si allenano in Comarcio in vista del prossimo impegno di campionato. I ragazzi di Mister Bellini, inquadrato in questo momento, stanno sostenendo degli esercizi atletici agli ordini del preparatore. Sessione che proseguirà fino alle 5.30 in questo mercoledì che stiamo osservando appunto qui il preparatore, il Mister e i ragazzi che si allenano. Grazie.